dovremmo essere live quindi hello boomers ciao a tutti i ragazzi ben ritrovati sul mio canale twitch ospite di oggi seconda puntata con giulio the bastard e con me franzeloresto ciao a tutti i ragazzi ciao a tutti ciao ciao allora faccio una breve introduzione per chi starà guardando questo video su youtube questa è la seconda parte e di un video della storia di cripple bastard la prima parte è stata fatta il mese scorso e trovate il primo video qua con il link in descrizione in questo modo se capitate su sto video partite da quell'altro perché così avete la storia completa sapevamo che non saremmo riusciti a risolvere il tutto in una sola puntata e 15 ecco per la seconda parte lascio la parola a franz bellissima allora facciamo facciamo subito un link alla prima parte visto che come mox sempre interessante bello fare le puntualizzazioni del caso come e quindi ricordarci due o tre cose che mi ero scordato di di tirar fuori o che mi avete detto ah tu non ce l'hai tutte queste robe qua eravamo rimasti un po in maretta ti sei portato avanti eh sì sì ma questo in realtà ne avevamo parlato eh dell'ecov interest dell'ecov interest della nostra data a los angeles a hollywood anzi esatto ne avevamo un po' grandissimo gruppo grandissimo uno dei migliori gruppi di quella scena lì con cui abbiamo suonato devo proprio dire sì e ne avevamo parlato perché eh un paio di vostri dischi sono usciti per la deep six per la deep six esatto come e sensitive variante alla morte insomma appunto avendo citato il gruppo mi interessava farvelo vedere e stiamo parlando di power violence stiamo parlando appunto di personaggi niente male eh gruppo sei un gruppo stile gruppo alla infest totalmente alla infest e sono messicani di los angeles con la batteria alla batteria c'è bob della deep six cioè il capoce della deep six e alla batteria nelle cov interest e una una cosa per cant che sappiamo bene essere ultra affezionato della fatwreck qui dentro ci suona anche chris dodge e forse non tutti sapevano o io non lo sapevo che lui in una prima formazione dei no use for a name ha suonato erano venuti anche in italia tipo la formazione l'interno a 91 92 quindi pensare il cioè la trasversalità di quest'uomo è vero anche che i no use for a name i primi no use for a name erano sicuramente si erano prodotti dai bad religion all'epoca una delle prime produzioni e dopo di che hanno avuto anche membri che poi sono andati a stare nei fu fighter quindi una band che ha visto passare veramente di tutto seconda cosa questa è la ristampa allora mi avete detto che non ho il ministero dell'inferno però in realtà ho la ristampa di truce boys quindi no truce clan ma sangue quello è sangue bravo si si l'ho preso anch'io quello quello avete sborsato mi sa vero ma sono i 40 euro di aldebaran quindi sì perché la prima stampa poi dopo l'hanno ancora ristampato e allora è tornato diciamo intorno ai 40 euro esatto però dai che la prima era andata proprio a fulmino cioè finito in un attimo quello quello che mi piace forse di più sai di tutto quel giro sì sì poi tra l'altro c'è un piccolo segreto che vi rivelo adesso dentro c'è un intro adesso non mi ricordo in che brano che è preso dal film che si chiama amore morte nel giardino degli dei e da quell'intro lì c'è una parte di quel film lì ecco abbiamo attinto anche per un intro che c'è in la fine cresce da dentro quindi c'è questo parallelismo diciamo quando eravate compagni di merende poi praticamente giustamente dicevi che quel genere o quella quella gente che non so ma no no sulla gente no cioè almeno su truce clan truce boys così figurati personaggi che rispetto tantissimo che finché c'erano i concerti ci incrociavamo ancora mi faceva piacere tutto è proprio che per come sono io e mi romperò ti coglioni del genere quindi dopo quella collaborazione però è interessante vabbè ho spulciato dentro io ho questo anche di noi marcos che è enemy uno degli ultimi che ha fatto sì e e qua ragazzi suona con achille lauro suona con appunto siamo anche qua a livello di trasversalità stiamo siamo siamo proprio un po come i fu fighters ma l'hip hop non ci fa è una cosa piuttosto normale visto che siamo nel gancio con la puntata scorsa a sto punto mi ero assegnato una cosa anch'io che l'hai ritenuta per la fine ma a sto punto la porto avanti adesso tra l'altro in questi giorni mi sono ripreso allo scary store di giulio e nell'edizione del ventennale di misantropo a senso unico è una domanda che mi ero sognata io e altri era venuta fuori 94 per flashback di un massacro e se ci vuoi raccontare un po di quel pezzo come nasce quel brano lì allora quel brano lì in realtà è un remake perché noi nel 93 avevamo fatto una cassetta molto limitata che era il tributo ai 7 minutes of nausea dove c'erano dei pezzi ancora più corti di quelli che facevamo normalmente come pezzi corti e quei pezzi lì registrati nel 93 erano tutti con testi in italiano e semplicemente noi li abbiamo risuonati come cioè la stessa cosa identica se qualcuno ha la fortuna di aver trovato quel demo lì molto limitato i pezzi sono uguali stessi testi inclusi già allora quindi sono testi scritti nel 93 e lì abbiamo rifatti li abbiamo agganciati con quell'intro finale lungo quello con tutti gli insert dei film rifatti magari con un po più di di testa però è comunque un remake di una cosa fatta allora remake di un vecchio demo e mi erano usciti fuori a fiume in quel momento quei quei testi in italiano in un tipo nel 93 e quindi insomma così semplicemente un rifacimento guarda gli inserti delle parti cinematografiche mi pare ci fosse una cattiva giornata per l'ariete qualcosa del genere giornata nera per l'ariete poi c'era qualcosa c'era qualcosa dalla maschera del demonio e poi tutto il finale quello sei bella è preso dal film di Hitchcock che si chiama frenzy quello dell'assassino delle cravate infatti mi ricordo che appena a 18 anni ebbi il disco poi dopo andai a recuperarmi subito quei due film sì sì infatti ogni tanto usavamo grazie per il consiglio usavamo questi inserti dei film poi per un po non abbiamo più usati abbiamo ripreso adesso su appunto la fine cresce da dentro c'è qualche inserto da film ottimo questo non avevo fatto vedere perché non avevamo fatto vedere cd l'altra volta però sempre in stile mox sappiate che più o meno di tutto quello che avete visto in vinile ho anche cd ma quella la riedizione che era venuta fuori per i 15 anni quindi bravo 2015 con lo slip case esterno avevamo fatto una bella serie di concerti per la presentazione a corredo sì 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 e dovevamo farle anche per il ventennale invece è andata così insomma vabbè tra l'altro l'edizione che avete fatto per il ventennale appunto di misantropa senso 1 che ti fai quasi sentire in colpa perché con 20 euro prendi il vinile con gatefold cd e 7 pollici e 7 pollici il grande il grande silenzio un package molto molto ricco un prezzo super sì poi abbiamo messo tutto come era nella stampa originale c'è lo stesso booklet lo stesso gatefold insomma poi in più abbiamo aggiunto quel 7 pollici c'è la versione in cd sì è ben curato bene a questo punto andiamo a bomba ok anche qua ho sia il cd hai preso il cd ok ok sì tiriamocela allora c'è quella colorata aspetta ma guarda secondo me io ci ripensavo stasera esistono solo colorati di quelli io mi sono tenuto un po di colore vediamo che colore hai te io ho un po di colori diversi di questo aspetta questo qua che ho portato di mano anche questo è un po più verdastro vedi ma sempre azzurro e poi cos'è che c'è questo qua guarda perché sai mescolando i colori marmorizzati ne uscivano fuori questo qua è violaceo bello poi cosa tende quasi al verde possibile sì poi c'era tipo verde acqua del marmorizzato bianco violaceo blu poi guarda un altro tipo di questo qui tipo un po più scuro come un azzurro scuro sono tenuto un po le varianti che trovavo di questa cosa qua la copertina tra l'altro di quel disco lì è stata disegnata da buzzico quello che ha fatto anche mi sembra le copertine per i municipal waste per i vari gruppi trash così questo è proprio verde scuro vedi questo e così insomma sì questo è il disco di cover che riprende il sette pollici uscito nel 94 dove c'erano tutte cover di gruppi punk hardcore italiani il primo c'è sicuramente frenza e anche sette pollici vabbè che anche incluso in questa ristampa qua esatto quello lì è sette pollici del 94 cover non so nabat regge negazione underage così e qua abbiamo ripreso facendo anche un po di cover trash perché ci sono i necrodet jester beast schizo bulldozer e così quindi abbiamo fatto un po vedere quelli che erano le nostre influenze le nostre radici dal trash hardcore italiano degli anni 80 e questo è registrato in italia questo frammenti di vita abbiamo registrato in uno studio di como che allora non si chiamava ancora spvn adesso si chiama spvn le voci le ho fatte al toxic basement che lo studio dove faccio tutti i lavori per il per la squad e niente questo anche questo uscito per deep six in vinile esatto e poi invece per la versione in cd è uscito su foad coprodotto con tv or perché quel periodo lì mi vedevo ogni tanto con stivalli e lui mi ha detto che aveva un numero di catalogo libero del suo vecchio catalogo e gli faceva piacere metterlo insieme perché alla fine comunque si coverizzano tutti i gruppi che lui faceva uscire magari che era della sua generazione tutto quindi insomma mi ha fatto molto piacere avere il logo tv or il suo numero di catalogo sul sulla nostra uscita ecco solo su cd bello tvr tvr solo su cd perché poi il il vinile è tutto deep six capito e allora chiede due domande toddywan come sono stati scelti i pezzi del disco e io chiedo come mai avete fatto anche due pezzi vostri allora pezzi nostri perché abbiamo preso due classici che volevamo che boh ci stavano bene lì in mezzo abbiamo preso l'italia di merda e poliziano razza da estingere stavano non so calzavano perché erano pezzi con una base molto fan carcora italiana e secondo me facevano un po da sai da filo conduttore una cosa del genere ecco come ragionamento quello i pezzi li abbiamo scelti insieme io magari ne avevo portati dentro di più che però provando poi a suonarli gli altri vedevano che non venivano non uscivano tanto in stile cripple allora abbiamo poi deciso boh questi vengono un po meglio ci sono quelli dove si è stati un po più fedeli agli originari quelli che li abbiamo leggermente stravolti come il caso della cover di declino che l'abbiamo velocizzata io volevo volevo molto fare una cover di disperazione a me piacciono tantissimo disperazione però non siamo poi riusciti bene a tirarla dentro quindi avevamo poi lasciato perdere quindi quello la scelta è stata fatta in quattro i pezzi che abbiamo tirato giù una scaletta abbiamo visto quello che venivano fuori meglio magari che non erano troppo banali siamo andati in vanti così dai nomi anche la scelta dei pezzi non è quasi mai il primo che ti viene in mente su una determinata band no no infatti c'era così ci siamo messi un po ragionare su cosa poteva fuori meglio anche pezzo di negazione è stata dura perché negazione fanno la cover da un pezzo dello spirito continua cioè parte già sconfitto proprio quindi insomma è stata difficile scegliere un pezzo così dal vivo li avete portati ogni tanto questi pezzi ogni tanto ogni tanto poi magari l'abbiamo riproposto qualcuno anche in tempi recenti avevamo ritirato fuori la cover dei vracid e avevamo tirato fuori quella degli indigesti quale degli vracid spervenga la guerra maica abbiamo fatto finera maia fatto dal vivo poi dopo anche cos'era sguardo realtà degli indigesti quelle dal vivo vengono veramente bene poi avevamo fatto nel periodo proprio che era appena uscito l'album ogni tanto facciamo quella di jester beast avevamo fatto qualche forse una volta anche quello di negazione poi però non è che abbiamo mai fatto dei tour dedicati con solo quei pezzi lì però alla fine è un bel disco lo trovo completo sì poi è molto divertente che si conoscono tutti i pezzi desce assolutamente dritto sì 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 certo suonare quei pezzi è molto divertente almeno nel mio caso mi piace tantissimo quindi insomma c'è anche l'entusiasmo alla fine di fare l'unico robarico che sono l'unico pirla che c'è solo cd ah e vabbè dai prima o poi una ristampa in vinile uscirà prima o poi secondo me a chi devono proprio oggi che avete postato la foto della ristampa non è più disponibile no cioè a meno che non ne abbia ancora di psix ma non mi sembra sai quindi adesso cerco di recuperare l'unica copia nera in vinile standard giusto eh perché mi sa che nera non le ha proprio fatto a meno che non esistano dei test pressing o dell'edizione white label però non credo cioè io io non ce l'ho neanche il test pressing di questo non so neanche se è stato fatto a sto punto faccio un gancio io ci ricolleghiamo alla precedente alla seconda con oddone sì siamo in fase cover assolutamente la cover è Asker 2 è vero quello è uscito un po' prima mi sembra non so fine 90 forse avevamo quelle cover lì c'era ancora paolo degli arturo la batteria l'avevamo fatte in una session del 97 mi sembra e insomma erano venute bene fuori anche quelle secondo me perché poi c'era The Girl Ulysse on Evan Hill che è un pezzo più melodico quindi magari uno è rimasto un po' spiazzato dire c'è i cripple che fanno un pezzo così però quello è uscito fuori bene ci sono ancora sì vai vai no era ancora la vecchia line up con Alberto la chitarra e Paolo Arturo la batteria lì aspetta aspetta eh ah sì 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 grande foto quella sì sì e tra l'altro l'avevamo fatto in acqua luce infatti quella foto lì è stata scattata in acqua luce mitico studio torinese anzi in provincia di Torino da Pignano che ha fatto la storia dei gruppi air core di quella zona cioè registravano i Crunch gli Arturo i COV cioè tutti i gruppi che hanno avuto importanza nella scena torinese degli anni 90 e poi a lanciare cioè lì agli inizi andavano anche per dire Marlene Kunz non so tre allegri ragazzi morti cioè è uno studio che ha una base veramente importante che peccato non esista più i due Fonic che lavorano lì dentro sono due miti che sono Marco Milanesio che saluto tanto anche Tino Paratore anche lui saluto mitici tutti e due insomma personaggi chiave chiave della scena arcore torinese anni 90 ma non solo dell'arcore dunque peraltro di vostre cover penso che Girls Who Willis on Avenida è quella che ho consumato di più quel pezzo mi piace al casino e la seconda è qua dentro che è il duetto è quello con la mandalia è un delirio che ci è venuto in mente è sempre anche lì in acqua a luce era stato fatto quella cosa lì però sì sì io era un periodo che ascoltavo tanto quelle cose quindi vabbò era venuto fuori quella cosa lì peraltro cioè a catena poi mi sono andato a recuperare sette pollici originale di Amanda Lear sì 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 bello quel pezzo molto molto e tra l'altro il duetto è spassosissimo col growl pensa che è un obscene extreme in Repubblica Ceca avevamo aperto con come intro quel pezzo lì dove io ci facevo su i growl era stato l'intro la gente era andata delirio bello quindi ok frammenti di vita si parla di 2010 poi subito dopo proprio attaccato all'uscita di collab abbiamo fatto un breve tour con i Wehrmacht in Italia un po' di date gruppo storico trash core americano insomma poi da lì si passa poi alla fase successiva siamo arrivati poi al contratto vero e proprio con la Relax noi nel 2012 abbiamo fatto ancora il sette pollici per il Labs quello che si chiama Senza Impronte ecco prima ancora di quello non avendo pensato ai sette pollici ce l'ho però non ce l'ho qua ma io ne ho un po' qua sotto magari per caso dopo abbiamo tempo di tirare fuori comunque sì poi dopo siamo passati a nero in metastasi e quello è uscito nel 2014 registrato bene o male poi tutto nel 2013 l'ultimo album con Al Mazzotti e La Batteria con la formazione lì e appunto sì registrato di nuovo al Fredman in Svezia insomma è il primo full length dei Creeple su Relapse quello raccontaci un po' Relapse cioè quanto da persona tra virgolette da fuori quanto è realmente come dire importante o differente lavorare per Relapse piuttosto che appunto per Deep Six cioè c'è stato un salto a livello non so di distribuzione a livello di vendita soprattutto allora nero in metastasi è stato ben coperto io adesso con l'ultimo non mi rendo conto perché sai cambia tutto con il digitale con canali diversi non mi rendo più conto di quali siano i numeri però con nero in metastasi loro hanno fatto un'opera di copertura cioè a livello di non so tra webzine, portali, interviste così che era stata enorme quindi cioè si vedeva la differenza chiaramente noi in realtà eravamo in rapporto con loro già da tantissimo tempo si parlava già da tanto di fare un lavoro con loro però si è concretizzato poi questa cosa qua dell'album poi solo con il rimetastasi la prima uscita dei Cripple con Relapse è stata questa compilation che adesso mi ritorno a 2006-2007 slime wave series si chiama dove avevamo messo giù tipo sei pezzi registrati da Fredman poi era uscito anche come Sette Pollici e poi da lì continuavano sai cos'è che a Relapse continuavano a cambiare personale quindi magari c'era il tipo intrippato con i Cripple che ci portava dentro due anni e ne arrivava un altro poi magari passava un po' di tempo e ne arrivava un altro ancora adesso quello che ci ha portato dentro per fare Nero in metastasi e gli album successivi non c'è più neanche lui però adesso sto parlando con un altro che ha anche preso benissimo con Foad e quindi insomma continua ad esserci una comunicazione è tutto abbastanza positivo Allora, come è nota l'idea del concept? Ti chiedo e dopo un'altra domanda su un pezzo in particolare Allora, Nero in metastasi ti dico sai com'è innanzitutto la grafica visto che tutto l'album è un po' sviluppato sul concept della malattia rapportato con non so, tipo l'isteria della società moderna queste cose qua gira e rigira per trovare una copertina un mio amico mi ha suggerito questa cosa del del disastro di Seveso quello che c'era stato negli anni 70 della diossina e allora abbiamo trovato il contatto del fotografo che aveva fatto le foto quelle storiche che uscivano su tutti i giornali all'epoca quelle della bambina devastata dagli effetti della diossina e abbiamo chiesto l'autorizzazione a usare un po' di queste foto nella grafica lui ha detto proprio a patto che non si ridicolizzi la persona gli ho detto no no per noi è un concept molto serio e lui si è fatto dare proprio l'autorizzazione della vittima di questa cioè la persona vera e propria e quindi insomma è una storia interessante perché le foto ci sono proprio arrivati negativi e le abbiamo utilizzate su questa grafica noi cioè la grafica i concept tipo front cover queste cose qua negli album dei Cripple sono fondamentali quindi cerchiamo sempre di trovare qualcosa di originale che magari sia esclusivo non usato da altri e questo è una foto incredibile sì assolutamente la bambina con la bambola questo questa specie di specchio ecco quasi poi lei così deturpata si specchia bene con i testi dell'album il mood molto negativo bianco e nero insomma quest'album è proprio nero in metastasi dice un po' tutto l'ho presi in preorder la versione grigia e quindi ho anche la maglietta con quella grafica e invece un pezzo che forse esula un po' dal concept però non si può non notare ed è appunto splendore tenebra che lì andasti a riprendere una vecchia poesia quello era un pezzo allora quello è un pezzo partigiano cioè tipo una cosa un po' intricata quella era stato scritto da un partigiano jugoslavo che era stato poi ucciso nella seconda guerra mondiale che descriveva le atrocità degli Ustasha nei lager come gli Asenovats e quindi questa cosa qua c'era tutta la descrizione la poesia è molto bella si chiama La Fossa mi sembra che si chiama La Fossa adesso ce l'ho in mente in lingua appunto mi sembra che si chiama Yama e parla appunto di questi prigionieri in colonna che venivano erano legati tra di loro con il filo spinato e arrivavano fino a questa fossa dove gli veniva tagliata la gola e poi gli veniva tirata una martellata in testa cioè buttati uno a uno giù nella fossa e parla di questo superstite che comunque dopo aver subito comunque la recisione della gola e il colpo in testa sopravvive e qui è coperto dai cadaveri e riesce a districarsi uscire insomma si libera no? è tutto vissuto un po' in prima persona una cosa molto e venivano cavati anche gli occhi qualcosa del genere esatto esatto sì sì noi abbiamo tradotto e un po' reinterpretato questa poesia che mi piace tantissimo che secondo me è proprio super parte se qualsiasi angolazione uno la veda e niente l'abbiamo tradotta in questo brano che è un brano lungo e insomma oltretutto l'abbiamo l'abbiamo anche tagliata in modo che avesse un senso alla cripple cioè non è tutto il poema quello ma solo le parti che volevamo in qualche modo fare nostre io invito comunque chi ha la possibilità di farsi un po' una ricerca su questa cosa a trovarsi il testo originale il poema originale è bellissimo addirittura degli estratti di questa cosa qua erano stati incisi sulle vecchie fontane quelle che c'erano ancora nella vecchia Yugoslavia quelle con la stella sai quelle che venivano fatte fare da Tito quelle con la stella rossa sopra e sotto ci sono delle parti di questo poema incredibile cioè veramente super parte se non va visto secondo me né in un modo né nell'altro a livello politico è proprio una cosa che ha una sua perfezione che va fuori da qualsiasi connotazione politica pesante e allora Taffarella chiede già l'altra volta soprattutto ho riferito una copertina Almost Human e quindi se avete mai avuto rogne per le copertine su quelle di Almost Human Taffarella ti rimando all'altra puntata oltre a Almost Human avete mai avuto problemi problemi per la distribuzione o qualcosa del genere no su Almost Human chiedo per un amico allora su Almost Human no so che addirittura la fabbrica dove avevano stampato gli hanno fatto delle storie cioè ha detto che Churbine ha detto il direttore della fabbrica ha questo cd sulla scrivania come esempio di cosa che non andrebbe più fatta gli hanno detto di cose del genere ci sono molti aneddoti divertenti che magari c'è su questo questo album così che magari perdiamo un po' di tempo a dirli tutti però a parte quel casino che era successo in America adesso vabbè poi singoli concerti dove magari c'erano stati dei tafferugli mi ricordo una cosa a Vienna che però non aveva a che fare con quel cd aveva a che fare con la maglietta Eterno dove era arrivata una tizia incazzatissima alla fine del concerto ci hanno dovuto scortare fuori perché stava venendo fuori i fini mondo ecco queste cose qua però di per sé Almost Human magari ha avuto degli strascichi polemiche web o cose di questo tipo un articolo contro su Maximum Rock and Roll forse queste cose qua ma quello se non ce l'hai non fai parte del music business comunque dice anche non so il sasso dal cavalcavia oppure lo stupro in speed demon allora dunque sasso dal cavalcavia no di per sé no quella copertina di misantropo è così talmente estrema che poi ha comunque tutto il suo senso sai che c'è la macchina col buco i testi messi giù con l'ora secondo me no Almost Human ha avuto un po' quel casino lì che c'era stato l'emissione lì allora ma niente di poi tante cose su web ma di persona quel che boh niente di che ecco avevamo fatto anche le maglie di quello maglie e felpe ogni tanto ai concerti ti vedevi delle scene incredibili io infatti avevo sia la t-shirt che la felpa di Almost Human in modo che se voglio rompere il cazzo arrivo con la felpa e c'è quella di Almost Human e me la cavo e ho la maglietta e mi dicono non è un gran che dopo la maglietta sotto proprio il senso completo che ho fatto sai che alla fine c'eravamo rotti talmente i coglioni che ogni volta perché ce l'avevamo quasi a tutti i banchi alla fine con Fod con i Crippol cioè a vedersi tutti quelli che passavano magari sai anche quelli che non c'entrano un cazzo i concerti che si piantano lì le battute tutto a un certo punto mi ero rotto i coglioni anch'io ho detto no basta la stampo più addirittura è arrivata una famiglia di rumeni hanno cominciato guardati commenti in lingua ci sono stati lì chiamavano gli amici dopo un po' ho detto ma questa cosa qua è diventato un teatrino il senso di base alla fine che anche abbinare il titolo che c'era allora con quella copertina quindi quasi umano sai c'era magari anche un senso un po' più profondo in tutta quella cosa e si è completamente perso nell'arco nell'andare degli anni quindi l'abbia lasciato un po' lì dove era ecco si parla di una ristampa di quel cd addirittura c'è la proposta a Churby stesso io con Obscene Productions non faccio più quasi nulla ma una ristampa di Olmos Tum mi ha detto mi piacerebbe farla e gli ho detto dai quando riprendono i festival magari se ne parla in concomitanza col prossimo Obscene sarebbe bellissimo sì sì quello era comunque una raccolta di singoli Olmos Tum che prendeva un certo periodo e c'era più c'era del materiale live qui l'avete cioè diciamo il periodo quanto è durato cioè il tour allora innanzitutto vabbè visto che hai fatto vedere la versione in vinile tu voglio specificare che c'è l'edizione in vinile grigio e la versione in vinile trasparente che è la band edition tu quella lì è la versione in vinile grigio troppo grigio sì vabbè adesso ce n'è una in vinile trasparente esatto esatto sì 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 allora era uscito nel 2014 seguito da questo mitico tour in Giappone e Australia che è stato il nostro primo tour in Giappone è stato organizzato sempre da Churbi e Obscene perché suonavamo all'Obscene Extreme Asia e l'Obscene Extreme Australia e abbiamo fatto questa serie di date in Giappone è stato il nostro primo tour in Giappone arrivato solo nel 2014 perché noi nel 96 addirittura avevamo un tour organizzato in Giappone che era saltato all'ultimo momento per una serie di incomprensioni logistiche e di trasporto che c'erano state con gli organizzatori di allora quindi insomma un vecchio sogno che finalmente si è avverato primo tour in Giappone fantastico con un po' di date e poi da lì avevamo preso il volo per andare in Australia e insomma quello era stato il tour per promuovere l'album proprio il tour numero uno prima tra l'uscita del 7 pollici che aveva diciamo anticipato Nero in Metastasi e Nero in Metastasi avevamo fatto un tour in Brasile molto bello anche quello tour in Brasile con una super data a Recife con in un posto enorme con un bordello di gente c'erano Exodus Brugheria Ratus de Porrao e Kripol un concerto enorme veramente ci saranno state 7-8 mila persone in questa arena enorme lì in Brasile e più abbiamo fatto delle date anche molto belle tipo Sao Paolo o altri posti così poi dopo appunto è uscito Nero in Metastasi tour Australia e Giappone poi un po' di date sai festival date in giro per l'Europa in Italia insomma così in Australia deve essere deve essere forte perché allora Australia è un mondo beh è vero che ci sono contatti c'è mi sembra molto esotico fare il tour in Australia più che in tutti gli altri posti che hai detto allora io ti dico quando siamo andati lì dopo il tour in Giappone io avevo detto cazzo ma qua è troppo lontano a sto posto cioè siamo arrivati lì ero devastato già dopo non so una settimana e passa di tour in Giappone prendi un volo ti cambia ancora un'altra volta il fuso orario sono arrivato la mattina dopo sto volo notturno tipo arriviamo a Sydney ci hanno messo a dormire in un ostello per surfisti quindi cambia tutto lì in Giappone faceva freddo arriviamo in sto posto tutti con la tavola sotto braccio tipo la sabbia per terra lì nell'albergo fuori vedi i pappagalli sono andato completamente fuori mi sono preso un sonnifero sono andato a dormire perché stavo andando completamente e poi ti dico in Australia mi è piaciuto molto a livello sembra scontato dire a livello paesaggistico quello che vedevo lì poi i concerti non è che erano enormi anche questo Obscene Extreme Australia lì hanno una bella scena dei grandissimi gruppi però non è che c'è tutta questa gente i concerti erano date da massimo 300 persone cose del genere no 200-300 persone però belli posti belli gruppi incredibili loro in Australia c'erano gruppi come i The Kill incredibili proprio poi sai hanno tutto questo loro background sia nel grindcore che nell'hardcore insomma ci sono c'erano forte sì 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 e quindi io l'ho vista un po' come un'esperienza che sai chissà tornare in Australia così lontano tornare indietro ci hanno messo 20 ore d'aereo sono tornato a casa che proprio però comunque incredibile un'esperienza unica ma invece la passione per l'hardcore giapponese immagino c'era già però quando sei andato lì ho avuto poi come dire una si è risvegliato di tutto ma perché perché io proprio da ragazzino comunque molto giovane ascoltavo tantissimo i hardcore giapponesi però i classici le colonne portanti perché sono cresciuto ascoltando gli SOB o che ne so Auto Nightmare Systematic Death però quelli erano i gruppi diciamo così colonne portanti poi quando sono arrivato lì mi sono visto come sono i concerti lì abbiamo suonato con quei gruppi ho visto i Systematic Death dal vivo queste cose qua e poi ho visto un po' come erano i loro negozi di dischi la ricercatezza nell'andare proprio nella nicchia più estrema così allora mi si sono riaccesi un mucchio di sai piccoli ricordi dicevo ma cazzo queste cose qua una volta mi fecevano tantissimo il livello è sempre quello cioè anche se vai in cose molto più di nicchia molto più oscure c'è sempre un livello altissimo ci sono sempre scoperte interessanti quindi da lì mi si è riaccesa completamente lì è proprio stata l'esplosione e da lì sono andato a mille sul rinforzare la mia collezione di arcore giapponese sai che sono usciti libri dove comunque ho partecipato anch'io insomma per me è proprio un grande amore l'arcore giapponese mi ha ispirato tantissimo perché è sempre veloce sempre estremo sempre tirato a mille quindi rispecchio molto in quello che ha fatto o quello che abbiamo fatto nell'arco degli anni con i Cripola è sempre stata una cosa molto tirata nichilista come modo di essere poi ho avuto la fortuna di conoscere i loro gruppi i loro gruppi importanti i Dead Side i Nightmare suonarci insieme Systematic Death i personaggi che hanno fatto la storia di quel genere lì e quindi sai come purtroppo purtroppo e questa è l'altra cosa che mi incuriosisce anzi non è un purtroppo perché poi alla fine riesci comunque anche con quel poco che parlano a capirti a trovare una chiave per parlarci ecco io ho fatto delle bellissime serate con persone che alla fine l'inglese lo parlavano poco ma ci capivamo stavamo bene insieme io delle volte partivo andavo lì da solo perché poi in seguito a quel tour lì sono tornato tante volte magari nelle cose più importanti perché sai con Foad poi ho tirato dentro tantissimi gruppi che sono usciti per Foad in ristante cose del genere nelle cose più importanti magari prendevo un interprete però ci sono delle volte che mi lancio proprio ad andare con questi personaggi senza magari che loro non sanno neanche una parola però ci capiamo alla fine cioè per dire Giuntaro dei Gherogheri quando ci siamo beccati proprio cioè ci capivamo ma lui l'inglese lo mastica a zero eppure alla fine sai due o tre cose magari sai tiri fuori di nomi chiave cerchi un po' di capire quello che ti fanno vedere ti spiegano ma non ho mai avuto quella barriera del linguaggio non è mai stata la fine eccessiva con loro bellissimo a loro a loro fa piacere quando tu ti interessi delle loro cose quando fai vedere che c'è dell'entusiasmo un modo di comunicare lo trovano sempre e gli fa molto piacere che tu ti interessi alle loro cose per me è una passione enorme quindi così insomma loro probabilmente lo captano loro sono molto ricettivi vedono come sono cioè riescono proprio a leggerti dagli occhi dall'espressione quanto tu sei intrippato per una cosa quindi insomma ho sempre avuto una buona simbiosi con loro e da lì insomma tante uscite anche per FOAD con i gruppi giapponesi magari avremmo avremmo modo di parlare sia di FOAD che del Giappone dai esatto esatto e quindi eravamo rimasti nero in metastasi e poi tour vabbè alla fine è durato un po' è durato siamo andati avanti fino secondo me la cosa si è un po' conclusa con l'Obsine Xtreme del 2014 che è stata anche l'ultima data di Almazzotti con noi alla batteria poi c'è stato il cambiamento l'ingresso di Raffaele Saini e quindi da lì insomma come va il cambio di formazione qualcosa di particolare non ci trovavamo più non ci trovavamo più allora grandissimo batterista Almazzotti a cui voglio un bene enorme anche se comunque le cose magari non saranno concluse proprio nel modo migliore però alla fine c'era una questione di magari incompatibilità esigenze diverse mentalità diverse io ho sempre visto suonare questo genere qua come una cosa tra virgolette un po' sportiva anche cioè bisogna provare provare tanto perché tu magari vai su un palco davanti a tanta gente devi io cioè a livello di voce devi essere allenato lui aveva un'attitudine diversa cioè per lui lui si sentiva talmente sicuro che andava dritto fa io ce la faccio senza problemi e quindi non veniva le prove magari delle volte dovevamo cioè mi ricordo un brutto l'assolto dove dovevi andare a suonare davanti a diecimila persone lui non è venuto alle prove prima io sono arrivato lì che quasi caga capito perché suonare davanti a tutta quella gente non sei allenato niente cioè poi lui magari ci passava un po' più sopra perché era sicuro al mille per cento delle cose ma anche delle tecche capito quindi boh non lo so non mi ci trovavo a quel quel modo lì ecco di di suonare senza provare senza e comunque non veniva data l'importanza giusta alla band quel quel modo di fare lì anche magari andare in studio senza aver provato abbastanza i pezzi tutte queste cose ti dico a livello di personale una persona che comunque insomma l'amicizia che c'era tra noi quattro in quegli anni lì quando abbiamo suonato è incredibile però poi alla fine a un certo punto arrivi a un punto che dici oh non si può più andare avanti quindi a un certo punto aveva detto va bene così abbiamo fatto ancora quella data l'obsin e avevamo avuto un episodio di questa data in Sardegna dove lui non stava bene era rimasto a casa in malattia dove pur di non far saltare la data l'organizzatore in Sardegna ha detto guardate c'è questo ragazzo Raffael che ha una scuola di batteria lì a Cagliari che è in grado di imparare la vostra set list nell'arco di pochi giorni perché gli mancavano tre quattro giorni nella data quando Armazzotti ci ha detto che non avrebbe partecipato e appunto mi sento con Raff lui dice guarda io non riesco ad imparare un'intera scaletta dei Cripoli in tre quattro giorni però me la divido con due alunni cioè lui aveva degli alunni di batteria bravi quindi noi ci siamo presentati a Cagliari per provare tutto il pomeriggio per poi suonare la sera ci ha diviso un terzo un terzo un terzo un terzo di scaletta l'ha fatta Raff e altre due porzioni l'ha fatta questi suoi alunni abbiamo messo insieme la scaletta dei Cripoli e abbiamo salvato il concerto poi da lì in avanti avevamo fatto ancora qualche data con Armazzotti però mi era rimasto in mente che insomma questo bravissimo batterista che aveva fatto questa questa impresa eroica di impararsi una scaletta dei Cripoli in così pochi giorni quindi quando poi c'è stata la rottura con Armazzotti la prima idea è stata ho chiamato Raffa e gli ho detto ma non è che ti interesserebbe entrare in pianta stabile lui esaltatissimo lui comunque era fan dei Cripoli da prima e quindi da lì l'abbiamo tirato a suonare nei Cripoli come batterista fisso anche se è di Cagliari perché noi poi alla fine cioè due sono di Cremona io comunque sto nell'Alessandrino e Raffa tutte le volte viene in aereo da Cagliari però ci riusciamo perché lui comunque dà lezioni di batteria in giro per l'Italia sai è comunque un batterista grandissimo che ha fatto cioè era difficile prendere il posto di Armazzotti forse c'era solo una persona che poteva farlo e noi abbiamo avuto la fortuna di trovare quella persona almeno per quanto riguarda i batteristi in Italia ecco perché poi sai non è solo suonare super veloci blastare essere precisi cioè lui mentre a Mazzotti aveva una grossa impostazione metal che poi aveva adattato bene allo stile dei Cripoli all'arco degli anni Raffa ha anche un buon tiro hardcore che ha ripreso un po' quello che magari era lo stile di batteria in misantropo e senso unico aggiustandolo meglio ecco dandogli più eleganza anche perché il dottor Thomas con tutto quello che comunque poi ha fatto con l'album lì era anche un fulmine ma non era la precisione di Raffaelsaini quindi insomma è stato uno stacco importante quel cambio di line up lì da un batterista molto bravo talentuoso come il Teo a Mazzotti appunto passare a Raff che pian piano si è imparato la scaletta e ci ha portato a fare dei concerti e dei dischi penso dello stesso livello quindi io adesso non so quale sia la percezione però tanti vedo che comunque non hanno lamentato questa mancanza ecco nell'arco del tempo poi sì magari c'era proprio il fan dello stile di batteria di Mazzotti che ha detto no vabbè preferivo le date con lui c'è invece chi dice no avete fatto un salto di qualità sai è molto soggettiva poi la cosa beh fatto sta che questo è un altro è un altro grande album punto ah ecco sì quello lì si salta poi al 2018 2018 2018 allora nello stacco di tempo che c'è stato in mezzo chiaramente tante date per mettere un po' insieme questa line up con Raff rodarlo bene e poi abbiamo cominciato a comporre questi pezzi ecco tra l'altro c'è un'altra cosa da dire sia su Nero in Metastasi che sulla fine Cresce da Dentro c'era il secondo chitarrista Wild Vitto che appunto ha partecipato anche abbastanza nella fase compositiva arrangiamenti queste cose qua un chitarrista di Cremona che poi a un certo punto ha deciso di andarsene e dopo la fine Cresce da Dentro ha piantato lì e comunque con lui anche avevamo fatto un tour in Giappone insomma ha fatto parecchie date anche un tour in America dove avevamo suonato al mitico festival di Phil Anselmo tra l'altro in Texas al come si chiama House Core Horror Festival nel 2015 con Raff alla batteria già e avevamo fatto lì alla chitarra c'era Wild Vitto avevamo suonato questo festival incredibile lì c'era King Diamond addirittura e niente comunque aveva partecipato molto nella composizione dei brani negli arrangiamenti queste cose qua alla fine Cresce da Dentro ho registrato allora la base strumentale registrata in Italia questo studio di Como di Stefano Santi che saluto che si chiama SPVN Studio poi la voce l'ho fatta come sempre al Toxic Basement e questo l'abbiamo sempre mixato poi in Svezia con Fredrik Nordstrom però dicevamo appunto tra andare a fare le riprese lì farcele bene in Italia magari con un po' più di tempo curandolo di più ho detto facciamocelo in Italia poi lo mixiamo con Fredman e via e così è stato andate su in Svezia per il mix o? sì lì eravamo andati per il mix per la fine Cresce da Dentro eravamo andati io e il fonico che ha fatto le riprese quindi con questo Stefano Santi eravamo andati insieme abbiamo seguito bene il mixaggio perché volevamo che avesse un'impronta più analogica e meno ritoccata ecco meno sai per dire non ci sono praticamente trigger sulla batteria tutto molto più diretto come tipo di registrazione rispetto magari a qualcosa che abbiamo fatto prima e quindi sono molto soddisfatto a livello di resa sonora di quel disco lì e insomma il secondo disco il secondo full length su Relax di nuovo un concept grafico che ha una storia perché anche qua tramite un nostro amico di Milano che di recente ha pubblicato tra l'altro un libro con tutte queste foto questi qua sono foto prese dagli archivi criminali della notte era una rivista di cronaca nera milanese che era esistita guarda sicuramente sbaglio ma dagli anni 50 fino ai primi anni 90 mi sembra dove si e lì avevano nei loro archivi proprio le buste della polizia criminale con tipo c'erano dei dossier interi con tutto quello che non so magari di un delitto avevano le varie foto per dire le varie foto dell'arma del delitto i proiettili quello che rimaneva sulla scena del crimine e noi avevamo avuto tramite questo ragazzo abbiamo avuto accesso a questo archivio di foto avevamo scelto queste immagini e insomma avevamo preso i diritti su quelle foto lì per poterle usare nella grafica perché mi piace molto questo immaginario sai Milano quelle sono foto degli anni 70 quindi mi piace molto l'immaginario della Milano anni 70 c'è quella retro copertina con i palazzi bellissimo insomma quello con la ragazza che si è suicidata secondo me eccolo lì ecco quello lì è l'ultima edizione di Alan Maglio quello è un libro fenomenale infatti voglio fare un po' di pubblicità se avete l'occasione prendetelo perché è stupendo e appunto dagli archivi di quel libro del materiale che è andato poi in quel libro abbiamo avuto la fortuna di attingere e prendere le foto che sono andate sulla fine crescere dentro è stupendo quel libro sì è uscito nel allora vabbè il libro è uscito dopo la fine crescita dentro mi sa che è uscito dopo l'anno scorso adesso te lo guardo ma è abbastanza recente penso che l'ho recuperato molto bello quel libro 2019 ok quindi recentissimo sì Alan Alan il ragazzo che appunto ha pubblicato quel libro è un nostro vecchio amico e ci conosciamo dai tempi del Cata no di appunto la storia di Silgalia Luca esatto sì avevamo fatto anche una coproduzione all'epoca io avevo fatto uscire con loro con il Cata e con con Alan avevamo fatto sai il disco quello dei Warpunk Warpunk il gruppo punk siciliano era un 10 pollici se non sbaglio no no è un LP è una coproduzione tra me Luca lì aveva Evine Spatz come etichetta e poi Alan che era stato lui a recuperare il demo da Steve Valli a chiedere l'autorizzazione alla band insomma era nata questa amicizia già allora quindi si parla di metà degli anni 90 e avevamo fatto questa coproduzione poi nell'arco degli anni siamo rimasti in buoni rapporti ed è saltato fuori questa cosa guarda che stava lavorando su gli archivi della notte e gli ho detto dai per favore c'è del materiale che magari mi puoi far vedere per la grafica dei Crippol perché cerchiamo sempre qualcosa di particolare e appunto ci ha fatto vedere c'erano delle foto incredibili lì dentro io adesso non siamo stati a usare quelle più estreme abbiamo usato quelle che magari centravano meglio con il concept dell'album però c'erano delle cose incredibili lì dentro e quindi vabbè insomma sai delitti anni 70 massimo armi veramente armi bianche madonna cioè dal rudimentale al alla follia pura ecco scenari incredibili vabbè insomma molto interessante come materiale da qui da qui attingere bene allora edizioni quello avete fatto edizione limitata arancione splatter mi pare e poi c'è una band edition che mi sembra sia di nuovo trasparente aspetta che vedo se riesco a recuperarla io ho proprio un nero proprio triste un nero in metastasi è un nero in metastasi ti dico poi abbiamo fatto l'edizione comunque quella curata dal mail order scary store che gli abbiamo aggiunto dentro un poster tra l'altro ecco questa qui è la band edition aspetta che vi faccio vedere in vinile trasparente infatti allora si è parlato già due volte di band edition praticamente è il cosiddetto friends and family quello che tenete voi come funziona il band edition ma allora io noto che la relapse le fa sempre queste edizioni diciamo per interni quindi sia per i componenti della band gli amici queste cose qua adesso l'ha fatta hai visto che stanno facendo queste ristampe giapponesi hanno fatto la ristampa dei gizm e ho visto che c'era anche appunto una band edition anzi me l'ha fatta arrivare e anche per gli di zoo adesso che stanno facendo sono in preordine hanno fatto la band edition quindi è una variante diversa limitata a 100 copie è una cosa un po' che si tengono quelli del personale di relapse quelli della band gli amici queste cose qua ecco sempre in 100 copie le fai fuori in un attimo alla fine quindi anche nel caso dei due dei cripple sono stati sia per nero in metastasi che per la fine cresce da dentro tutti e due in vinile trasparente le band edition mentre invece per quanto riguarda la die hard normale ecco l'edizione limitata normale dell'ultimo della fine cresce da dentro splatter con c'era un arancione tutto splatterato non so se magari ve ne faccio vedere uno dovrei avere anche questo qua portato di mano che quello visto che adesso è andato molto su col prezzo già quella arancione ecco è perché è finito abbastanza velocemente quello in Italia ne erano arrivate poche alla fine perché cioè non è che ne abbiamo avute tante delle etichette ne abbiamo avute tanti neri guarda qua ne ho un altro trasparente aspetta io tengo multiple copie di queste cose qua per la collezione quindi poi vabbè aspetta già che ci sono vi faccio vedere ecco guarda questo è il test pressing vedi che c'è proprio scritto test pressing di la fine cresce da dentro con il white label normale si lo rifaccio non stampato allora white label poi c'è questa busta appunto già prestampata test pressing con vedi poi dietro c'è un adesivo dove c'è scritto la fine cresce da dentro questi non so ne faranno una decina credo e poi aspetta stavo cercando di trovare l'edizione splatter vediamo se se la recupero noi nell'edizione che abbiamo fatto poi girare in Italia con Scheristora abbiamo aggiunto un poster dentro che non c'è nell'edizione americana eccolo qua questa è l'edizione splatter arancione vedi molto bella secondo me bella sì loro hanno fatto un po' questo ragionamento che volevano che richiamassi un po' i colori della copertina non è che sia proprio arancione però insomma ci hanno beccato abbastanza direi perché richiamo e tornando sul significato e chiede qual è il significato Toddy del titolo del disco la fine cresce da dentro sai noi lasciamo sempre margini di interpretazione nei in quello che sono i titoli i testi quindi non è che mi piace neanche poi tanto dire fine in fondo però la fine cresce da dentro significa che se tu lasci in qualche modo incancrenirsi i tuoi errori e non provi mai a correggerti a migliorare non è una cosa proprio di spirito interno se tu non provi a rinforzare il tuo spirito nella tua crescita tutto questo ti si ritorce contro e pian piano ti distrugge quindi se tu non so alla fine campi sotto le dipendenze marcisci nelle routine nella quotidianità da cui vieni sopraffatto nella monotonia tutto questo tipo di cose qui se non impari ad identificarle e combatterle e fortificare il tuo spirito nella crescita della tua vita queste cose qua dopo un po' ti schiacciano e quindi da dentro piano piano tu sei quello che determina la tua fine non riesci in qualche modo ad alterare il tuo destino infatti c'è questo pezzo iniziale che dice forze inverse al destino che è appunto un po' l'intento il senso di quest'album essere delle persone che in qualche modo riescono a modificare il proprio destino è il suicidio assistito vero? no è la seconda ah ok non coinvolto non coinvolto esatto ok e tra l'altro guardavo adesso in Europa proprio sono introvabili quelle le band edition ah è infatti sono tutti negli Stati Uniti c'è qualcosina ma solo negli Stati Uniti quindi in Europa no ma infatti anche a noi non è poi per cosa cioè quando poi arrivano le free copy e i cripple no cioè metti che di quella lì la band edition ce ne avranno mandate 10 quindi vai una componente della band gli amici sono finite e anche l'arancione alla fine appena proprio è girata a voce che stava arrivando tienimela da parte di qua di là finita infatti anche lì se con gli altri ero riuscito a prendere la copia arancione cioè la copia colorata lì proprio non ce la anche conosco nessuno ce l'ha la copia arancione quindi dei miei amici quindi sai quante copie sono state fatte? ma secondo una cosa tipo 100 o 200 no secondo me 200 200, 300 250 una cosa del genere quindi limitissimo quella quando la relapse apre i preordini lì bisogna avere la fortuna di intercettare il giorno perché tante volte loro non è che hanno magari la cosa che annunciano un po' di tempo prima almeno da quello che vedo io cioè loro il giorno che annunciano l'uscita aprono i preordini quindi se è un'uscita che poi va a fulmine devi avere la fortuna di beccare quell'annuncio per dire io adesso mi sono preordinato questo Zowo che è appunto questo gruppo hardcore giapponese ho avuto la fortuna di essere lì che stavo guardando una cosa su Instagram proprio nel momento in cui hanno aperto i preordini ho visto il tipo della band che ha detto guardate sono aperti i preordini erano aperti da 10 minuti e mi sono ordinato l'edizione limitata perché se no finiscono in un secondo proprio il trucco ragazzi è mettersi gli alert delle etichette che ti piacciono su Instagram in modo che ti arrivi la notifica quando fa il adesso per un po' l'ho dovuto fare perché mi son beccato dei boom di vinile nero per un anno adesso me ne sognato per questo vediamo con le prossime come va discorsi molto da nerd questi eh boh se uno magari c'è il gruppo che ci tiene ad avere l'edizione particolare anche io su certe cose sono fissato quindi siamo arrivati alla fine cresce da dentro e poi appunto si parla di 2018 poi siamo andati avanti con Date un altro tour in Giappone nel 2019 bellissimo tra l'altro e da lì poi insomma siamo arrivati verso il 2020 che stavamo per fare il ventennale di Misanthropo Senso Unico con Relativo Tour annunciato e poi insomma adesso è un anno che non facciamo concerti quindi vedremo quando le cose riprenderanno avete idea già qualcosa su Pessi qualcosa? adesso noi appena riprende cioè adesso è cominciata questa cosa della zona rossa stavamo già parlando di rivederci per far venire Raf dalla Sardegna appena non so dopo Pasqua si torna in zona arancione o quel che è tornerà a provare con noi a Cremona e quindi parlavamo di tirare giù dei pezzi nuovi magari una cosa un po' più a breve durata un EP uno split una cosa del genere e poi magari in vista di fare proprio un album nuovo anche perché con Relapse il rapporto è rimasto continuo a sentirmi quindi credo che c'è la possibilità di fare un altro album con loro e andare avanti non era total album cioè non funziona così come tipo per capirci come 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 lavorano loro o come lavorano loro con gruppi ma sai che il contratto si rinnova di volta in volta alla fine però io mi sto sentendo in questo periodo per altre cose come uno di loro che insomma lo vedo preso bene quindi secondo me questa opzione qua ci sarà sempre però adesso non mi ricordo se quando abbiamo rinnovato il contratto per la fine crescita dentro era per due album in effetti devo andarmi a rivedere le cose quindi ma sicuro ci sarà la possibilità ancora di fare qualcosa ma loro in che tirature escono? hanno dei vincoli? no questo qua si parla di più di 5.000 copie per la fine crescita che tra l'altro poi nell'arco degli anni variano anche perché magari loro hanno puntato poi un po' di più con il digitale però ci sono rimasto che comunque mi sembra che si parlava di 3.500 cd con la fine crescita dentro e almeno 2.000 lp se non sbaglio o era con eri in metastasi forse che erano 2.000 lp adesso non mi ricordo però si va sempre nell'arco dei 5.000 copie o una cosa del genere che calcolando che si va in un ambito sempre di materialità non è male come numeri sì 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 assolutamente poi vedo anche ho visto che non so di recente appunto che guardavo sul loro sito anche dell'edizione nera della fine crescita dentro mi sembra che diceva limited stock quindi vuol dire che gli sta finendo anche quello quindi comunque sono numeri abbastanza consistenti ecco e dopo due anni anche di in neuro in metastasi avete fatto la cassetta con FOAD sì in neuro in metastasi ho fatto la cassetta e guarda io ti dico mi piacerebbe farla anche per la fine di crescita dentro soltanto che adesso è un momento che non stiamo trovando il posto giusto dove stampare le cassette quindi mentre col vinile stiamo andando proprio a cannone come vedi con le cassette dobbiamo trovare l'aggancio giusto perché in effetti abbiamo dietro un catalogo di 230 titoli con FOAD che c'è tanta roba che si può ristampare in cassetta però come va con il mercato delle cassette? ma le cassette chiaramente non è che ne fai tante copie però sia che fa piacere a me sia che poi qualcuno c'è che è proprio fissato sul prendere la versione in cassetta secondo me 100 150 copie ma anche 200 magari ne fai suori perché poi hanno sempre dei prezzi molto bassi spesso sotto 10 euro e quindi nell'ordine te le metti dentro 8 euro così sei lì e allora nell'ordine te le metti dentro quindi è una cosa che fa sempre piacere poi è bello per chi vuole dagli anni 80 così c'è abbastanza imprinting sì infatti ma poi vedo che c'è proprio stato un ritorno negli ultimi tempi su io non so con che formati vengano ascoltati io ho ancora le vecchie piastre di allora anni 80 così però è solo collezionismo cioè tanto se l'ascolta in digitale tiene il il feticio la cassetta non credo ma io vedo ad esempio che ci sono anche tipo adesso sti nuovi workman che con l'attacco in usb o cose del genere cioè va a sapere poi che cosa si comprano come supporti per ascoltarsene io le piastre ce le ho ma non le metto le cassette perché non mi fido delle mie piastre no io ne ho prese lavorando tanto come acquisizioni per FOAD e così allora ne ho prese di buone nell'arco del tempo e ascolto anche direttamente da cassetta tante volte chiaro che se di un album mi esce vinile cassetta e cd non vado ad ascoltarmi cioè magari me la tengo appunto da collezione ma non vado ad ascoltarmi diretto all'edizione in cassetta la cosa che c'è solo in cassetta me la ascolto in cassetta certo avete qualche altra domanda Lorenzo e Franz allora rimasti quindi cioè con la fine cresce da dentro poi appunto 2019 tour in giappone 2020 le cose si sono fermate un po' e via così insomma poi ecco abbiamo suonato per dire ancora una cosa importante al ventesimo anniversario dell'Obsine Extreme che è stato un altro concerto colossale che appunto era un po' sullo strasico della promozione della fine cresce da dentro insomma mi sembra che cadeva sullo stesso anno che noi facevamo il trentesimo anniversario quindi perfetto dato on spettacolo ecco allora vado a una domanda per chiudere ti potresti vedere senza Creeple Bastard come come scusa non ho capito ti potresti immaginare la tua vita visto che è stata una parte preponderante senza Creeple Bastard ma domanda un po' così nel senso che per il futuro intendo per il futuro sai io nell'arco degli ultimi anni ho costruito anche tanto quello che è la mia passione musicale come etichetta discografica perché ho lavorato quindi c'è tutto un mondo parallelo che mi dà tantissima soddisfazione e in qualche modo dà spazio alle mie passioni quindi cioè sì che nell'arco degli anni in passato ecco poi in Creeple era tutto quello che era lo sfogo la riflessione dell'odio dei determinati sentimenti magari ipernegativi che andavano a sfogarsi tramite ho avuto la fortuna negli ultimi anni di avere questo parallelo che cioè se per sfiga per qualcosa spero di no spero che i Creeple vada avanti ancora per altri 30 anni ecco fino a quando ce la faremo perché è anche dura suonare grind adesso quindi insomma finché ce la faremo questa cosa spero vada avanti però se un giorno dovesse succedere qualche sfiga o qualcosa fortunatamente mi sono costruito un parallelo musicale che mi dà un'enorme contentezza e soddisfazione in cui riesco a mettere tutto me stesso anche se magari non c'è più tutto lo sfogo non so la rabbia dei live o di scrivere determinati testi però se dovesse cioè sicuramente sarebbe una coltellata al cuore la mancanza dei Creeple però da un lato sei anni fa non avevo questa componente oggi posso dire tu guarda c'è questa attività che mi piace tantissimo che mi dà tantissimo e quindi sono mi da cioè sono appagato anche su quel piano lì e penso di riuscire ad andare avanti anche con quello a livello di realizzarsi da dentro ecco un'altra domanda che è arrivata dalla chat è etichette importanti come la relapse influiscono sulla realizzazione del disco dal punto di vista artistico o danno libertà assoluta? no dal punto di vista artistico zero cioè nel senso non hanno mai detto allora la cosa principale è che diciamo lo specchio di questa risposta sta nel fatto che noi abbiamo sempre continuato a fare i testi in italiano non è mai arrivato uno di questi a dire ragazzi dovreste fare l'album tutto in inglese perché ci vende di più e non ci hanno mai dato dei paletti nella composizione loro poi si ascoltano il disco quando gli dai il master sono sempre stati presi in modo positivo da quello che gli passavamo ci hanno sempre visto come gruppo in crescita e quindi non hanno mai dato delle direttive magari ci sono determinati paletti quando usi dei sample da dei film loro su queste cose qua stanno a guardare dicono mi raccomando fatti dare l'autorizzazione o se hai un artwork particolare infatti vi ho spiegato che per Nero in Metastasi abbiamo preso la licenza anche per loro ci tengono perché comunque etichetta grande magari non so un'immagine che sottocopi da un'altra parte tu la tiri fuori questi qua essendo così tra virgolette più in grande vengono poi bastonati magari a livello legale o cose di questo tipo o magari se usi degli inserti da qualcosa in un determinato pezzo che poi mettono su youtube ci sono dei copyright sai che poi vengono zappati infatti quindi lì su queste cose qua loro sono molto attenti ti fanno scrivere da un legale ti fanno fare dei contratti e tutto ma per il resto non hanno mai messo vincoli quindi cioè libertà musicale testi contenuti tutto quello che vuoi ho una domanda io al volo da milanese che volevo fartela prima quando parlavamo delle cover parlami del tuo rapporto con i bulldozer bulldozer no un rapporto super anche perché come vedi oltre ad aver fatto tante uscite con Fod per un determinato periodo gli abbiamo anche gestito il merchandising ufficiale io andavo da AC Wild a prendere quello che loro avevano di merchandising gliel'abbiamo gestito con Scary Store ci sarà una grossa grossa sorpresa proprio con i bulldozer e Fod verso l'estate proprio una mega sorpresa e comunque dai un gruppo leggendario che mi ha fatto un piacere enorme potergli ristampare tutta la discografia degli anni 80 e abbiamo avuto quella fortuna di ristampargli il demo inedito quello dell'84 che aveva preceduto The Day of Wrath e quello dai un'uscita veramente quando Contini quando AC Wild mi ha dato la cassetta che dovevo andare in studio a passarla e a fare tutto il lavoro ti dico pensavo che ci voleva un blindato per portarla in studio perché dico questo è un tesoro proprio cioè un demo che nessuno sapeva che esistesse che ai tempi ne sono state fatte tre copie una rimasta AC Wild una l'hanno data a King Diamond per avere un suo parere e una l'hanno mandata alla Roadrunner wow wow la storia di King Diamond e King Diamond aveva detto questo demo è troppo punk non fa per me è un po' scartato ecco e invece la Roadrunner mi sembra che proprio in base a Fallen Angel 7 pollici e a quella cassetta lì gli aveva fatto il contratto poi per quell'album che erano usciti The Day of Wrath e The Final Separation è bellissimo quel demo cioè è incredibile quello lì di Exorcist sì alla fine sono i pezzi di The Day of Wrath fatti un po' più un po' più punk proprio quindi incredibile cioè è un gruppo che ha fatto la storia dell'underground italiano non solo del metal secondo me dai così abbiamo abbiamo lanciato il gancio per la prossima sì sì vedrete che ci saranno ci sarà una bella sorpresa legale ai bulldozer con Foa del futuro infatti da un po' abbiamo fatto anche un post dove annunciavamo che stavamo cercando del materiale fotografico flyer cose abbiamo trovato un bel po' di cose insomma vedrete cosa uscirà abbiamo lanciato l'amo per la prossima e quindi dai ci rivedremo con questo percorso visto che ci troviamo molto bene in questa stanza poi con tutti voi ragazzi quindi grazie mille Giulio grazie mille Franza e Lorenzo per questo bellissimo percorso e ci rivediamo molto presto grazie a tutti ragazzi bellissima grazie a voi grazie a Giulio ciao grazie a voi a presto grazie a tutti